E non si placano le polemiche sulla decisione di far portare la croce a famiglie russe d'Ucraina dopo domani lungo la via Crucis del Venerdì Santo. Allora con Nicola Ferrante capiamo qual è il senso di portare la croce insieme. Tredicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Divisi perfino sotto la croce nel momento supremo del dono d'amore all'umanità e l'indicazione che lascia di stucco anche perché è arrivato dall'ambasciata ucraina presso la Santa Sede. Un tweet dello stesso ambasciatore Adry Urasch, fresco peraltro di lettere credenziali presentate al Papa meno di una settimana fa, è come una doccia gelata sul senso più profondo della pace che scaturisce dall'albero della croce. Come è noto quest'anno alla via Crucis che torna finalmente al Colosseo porteranno in legno della passione di Cristo alcune famiglie in base alle tematiche scelte per le singole stazioni e alla tredicesima è previsto che la croce sia portata insieme da una famiglia ucraina e da una russa. Al tweet dell'ambasciata si è aggiunto anche l'arcivescovo greco-cattolico di Kiev, Monsignor Shevchuk, che rincara abbiamo trasmesso alla Santa Sede l'alta indignazione degli ucraini per un'idea inopportuna. Perché stare insieme sotto la croce, amici e nemici, ucraini e russi, credenti e non credenti, persone di diverse etnie, religioni e culture, perché la croce unisce e non divide. Del resto sotto la croce di Gesù, oltre Maria, le donne, il discepolo, coloro che erano dalla sua parte, c'erano anche coloro che lo rileggiavano, coloro che avevano chiesto la sua crocifissione e la sua morte. Auguriamo che questo Venerdì Santo sia un momento, almeno per i cristiani, di profonda unità.